Abbiamo fatto questa mattina un bellissimo incontro con questi ragazzi, almeno bellissimo per me perché mi sono divertito molto, perché mi hanno messo in grado di ricordare alcuni momenti della mia, chiamiamola la mia storia per essere presuntuosi, evidentemente c'era una condizione di reciproca volontà di raccontarsi, di piacersi forse anche che per il nostro mestiere è molto importante e ho visto che anche loro gradivano e intuivano questa mia gioia in qualche modo di parlare della mia esperienza e questo mi ha fatto molto piacere, spero che a loro possa essere utile in qualche modo, mi auguro di trovarmi un giorno ancora in grado di poter lavorare con qualcuno di loro che farà il nostro mestiere. L'importante è che tu abbia bene capito quali sono i tuoi strumenti e come saperli addomesticare, governare, i tuoi strumenti espressivi, perché poi questo dipende dal testo che fai, dal regista che incontri, dipende da tante cose, dal linguaggio di persona giulosa, dipende da tante cose.